Ben ritrovati a tutti, oggi abbiamo il piacere di avere con noi Luca Grecchi, professore di filosofia all'Università Bicocca di Milano e sicuramente uno dei più importanti filosofi italiani contemporanei. E cosa ancora diciamo più importante per noi di Ottolina è che Luca ha sempre avuto un approccio molto militante alla filosofia e quindi anche insomma molto molto distante un po' dalla cultura accademica dominante oggi. Ha scritto decine di libri che spaziano dalla filosofia greca alla filosofia politica, ricordo in particolare il necessario fondamento umanistico del comunismo e anche il suo ultimo libro Metafisica Umanistica che rappresenta un po' un compendio di tutta la sua filosofia. Collabora con la casa editrice Petit Pleasant Sans, diretta da Carmine Fiorillo, per la quale dirige anche la rivista Coinet. A costo di fare un po' di pubblicità, però questo è insomma il mio sincero parere personale, Petit Pleasant pubblica oggi quanto di meglio la cultura filosofica italiana abbia da offrire. E quindi insomma benvenuto, benvenuto Luca e grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a te Alessandro, ho proprio una precisazione. Ho usato la parola filosofo che per me è una parolona, cioè i filosofi per me sono Platone, Aristotele, Cantega. No, 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 Luca è modesto ma è assolutamente un film. Diciamo uno dei più grandi studiosi di filosofia, quello diciamo puoi concedermelo. Un normale studioso di filosofia che è appassionato, a cui la filosofia piace tantissimo. Tutto lì, quello che sono è tutto lì. Senti, allora partiamo con la prima domanda. Io ti chiederei appunto nei tuoi testi sottolinei spesso il fatto che secondo te la filosofia dovrebbe avere il dovere di criticare il sistema sociale capitalistico. Prima di tutto in quanto non conforme alla natura umana. Ma quindi, prima domanda, secondo te esiste una natura umana? E seconda, perché l'attuale sistema di produzione sociale, sia nei suoi aspetti economico-politici, sia poi ovviamente anche nei suoi aspetti culturali, non sarebbe conforme appunto a questa natura? Sì, 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 sono due domande. Ma allora la filosofia ha sempre, diciamo così, il diritto di problematizzare e di criticare tutto quello che non le sembri andare bene. Quindi ha il diritto anche di esprimere la propria opinione sulla totalità sociale, quale che essa sia. Lo fa, secondo me, è bene se si parliamo sempre di una critica alle modalità sociali in cui viviamo, se si basa su un concetto di natura umana. Cioè se si fonda la propria critica, ma in generale il proprio discorso su quello che l'essere umano è. So che il concetto di natura umana non gode di grande fama oggi nelle università, in generale nella filosofia contemporanea. La maggior parte degli studiosi tende a negare l'esistenza di questo concetto, chi non ne nega l'esistenza semplicemente non ne parla e quindi fa un po' la stessa cosa. A mio avviso però, una natura umana esiste sicuramente, cerco di argomentarla nella maniera più semplice possibile. Tutti noi riconosciamo e conosciamo le differenze fra, non so, nel regno animale tra un cane e un cavallo, oppure nel mondo vegetale tra un cactus e una orchidea. E lo conosciamo tutti noi, le conoscevano in Grecia 2500 anni fa, le conoscono in Nuova Zelanda oggi, eccetera, eccetera. Perché avviene questa cosa? Perché questi enti, questi viventi, hanno tutti una propria natura, una propria essenza. Cioè, se ci fosse qui un ozologo e un botanico, ce le direbbero proprio bene quali sono le caratteristiche essenziali che un cane, un cavallo, l'ozologo, il cactus, l'orchidea, il botanico devono avere. Ce le indicherebbero una per una e se mancano queste non si può più parlare di questi enti, di questi viventi. Ebbene, quello che vale per tutti i viventi, perché non dovrebbe valere per l'essere umano? Cioè, l'essere umano non ha una natura tale per cui, anche qui, 2500 anni fa in Grecia, nessuno si sbagliava nel dire che Socrates è un essere umano e il cavallo non lo era, il cactus non lo era, eccetera, eccetera. Il fatto che gli enti abbiano una natura, quindi un'essenza, abbiano delle caratteristiche essenziali, senza le quali non li possiamo capire, non li possiamo definire come tali, è un'obvietà. Ovviamente, a mio avviso, cosa obietta chi non ritiene che esiste una natura umana? Obietta diverse cose, l'obiezione forse più forte è quella per cui l'essere umano si differenzia da tutti gli altri viventi, animati, per il fatto che è un animale, tra virgolette, culturale, quindi che si forma in base alle modalità culturali che sono presenti e dominano, o comunque sono diffuse nelle modalità sociali in cui si vive. Il fatto che le modalità storico-sociali siano mutevoli, quindi anche le modalità culturali siano mutevoli, lascia pensare che anche l'essere umano sia mutevole. In realtà, ciò che muta nell'essere umano, ma ciò che muta probabilmente anche negli altri animali, nei fiori, eccetera, sono le declinazioni della sua essenza, ma non è certo l'essenza dell'essere umano, che finché esisterà, finché non si estinguerà la specie umana, finché non si estinguerà i cavalli, cani, orchidee, eccetera, sarà sempre caratterizzata da quelle caratteristiche essenziali che in alcune declinazioni accidentali possono modificarsi, ma in quelle appunto essenziali no. E questo è il motivo principale per cui ritengo necessario parlare di natura umana. Poi, la seconda parte della domanda riguardava il fatto del perché è importante basarsi proprio su questo concetto di natura umana per criticare il nostro tempo, quando è necessario criticarlo, naturalmente. Per fare questo passaggio non devo più limitarmi a dire che una natura umana esiste, ma devo anche, dovrei anche cercare di dire un pochino com'è fatta questa natura umana. Nei libri un po' che tu hai citato, ho individuato due caratteristiche essenziali per l'essere umano, che ho definito natura razionale e natura morale dell'essere umano. Cosa vuol dire molto semplicemente questa cosa? Vuol dire che l'essere umano per stare bene, quindi per realizzare la sua natura, deve poter mettere in atto la capacità che lo caratterizza rispetto a tutti gli altri esseri animali, cioè la ragione morale. Quindi deve innanzitutto cercare di conoscere con verità, parte razionale, quindi conoscere con verità le componenti più importanti della realtà in cui vive, e parte morale deve cercare di rapportarsi agli altri enti, siano essi umani o siano essi naturali nel senso più ampio, con rispetto e cura. Quando fa queste cose, l'essere umano ovviamente, poi ciascuno declina queste cose molto generali in base alla sua specificità, alla sua storia, alle sue abitudini, all'educazione ricevuta. Per me declinare la parte razionale vuol dire occuparmi di filosofia, soprattutto di filosofia antica, e per qualcun altro può essere occuparsi di scienza, per qualcuno è più importante la parte razionale, per qualcuno è più importante la componente etica, quindi l'attività sociale, volontariato, politica, o semplicemente una particolare attenzione a tutto ciò che è l'etica quotidiana. Questi due aspetti però per fare un essere umano compiuto, quindi realizzato, felice, che realizza il proprio bene, il bene è nient'altro che il fine verso cui ogni ente per sua natura tende, il cavallo ha il suo bene, il cane ha il suo bene, l'orchidea ha il suo bene, l'essere umano ha il suo bene, quando l'essere umano raggiunge, riesce a realizzare nella propria vita, in tutti i suoi atti quotidiani, la sua natura vive bene ed è, nella misura massima che le ha concessa, felice, perché a mio avviso ogni modo di produzione crematistico, io uso questa parola che viene dal greco, cremata in greco erano i beni materiali, quindi il denaro per estensione, diciamo così, le merci, il denaro, tutto ciò che è trasformabile in moneta era cremata. Ecco, quindi ogni modo di produzione è finalizzato alla massima acquisizione di denaro, che cosa fa? Tratta, se quello è il fine, massimilizzare la produzione di denaro, e tutto il resto diventa strumento, allora diventa strumento la natura, e se la natura è strumento non viene rispettata, lo vediamo oggi, se per fare più denaro io posso buttare tutti i rifiuti della mia azienda nel fiume, lo faccio, se posso licenziare un lavoratore in Italia e pagare un euro meno quello che è dall'altra parte del mondo, lo faccio. Quindi questa, e non viene concesso ovviamente all'essere umani la possibilità di conoscere bene, con verità le cose, e di agire eticamente, con rispetto e cura, nella loro quotidianità lavorativa o estra lavorativa. Per questo mi sembra che sia, che la filosofia, insomma, proprio incentrandoci su questi concetti di natura umana, possa criticare con ragione un modo di posizione trauteristica, mi viene anche a dire che forse, il fatto di che molti mettano nel cestino il concetto di natura umana, non consente di criticare a dovere la quale moda di posizione sociale. E quindi diciamo, anzi si potrebbe dire che appunto, il motivo per il quale questo concetto di natura umana viene così ferocemente attaccato è proprio perché sarebbe un concetto, se vogliamo, sovversivo rispetto all'ordine politico e culturale esistente. E su questo quindi, anche per dire, diciamo, collegato a quanto stavi dicendo a questo discorso sulla natura umana, potrebbe estendere questo ragionamento anche ai concetti di bene e di male, che sono immediatamente collegati, perché il nostro mondo, il nostro tempo, oltre a negare che esista una natura umana, di conseguenza potremmo dire, nega anche che esista un bene e un male, e viviamo in questo sostanziale relativismo culturale, per cui ogni valore è sostanzialmente storico e quindi diciamo tutto è possibile. In che modo è funzionale questo tutto è possibile, questo tutto è trasformabile al sistema di produzione capitalistico, secondo te? Ma sì, parto dalla prima domanda che hai fatto. Il modo migliore per non avere al centro d'attenzione il tema della natura umana più che criticarla come concetto è proprio non parlarne. Oggi l'indifferenza è la maggiore critica. Se tu non ne parli, sembra che questo problema non esiste, quindi che il concetto non ci sia. Però ecco, per esempio, è un concetto, sembra strano dire che la natura umana è un concetto rivoluzionario, però per me è proprio così. Quando Aristotele per esempio inizia il settimo libro della politica dicendo più o meno se vogliamo realizzare la Costituzione migliore, quindi diciamo il modo di produzione sociale migliore, traduciamola così, dobbiamo innanzitutto conoscere qual è il fine degli esseri umani, perché il modo di produzione della vita degli esseri umani ha come fondamento e come riferimento gli esseri umani. Se non conosciamo la natura degli esseri umani, soprattutto inteso, non possiamo realizzare un modo di produzione sociale migliore, quindi ci dobbiamo tenere a quello che abbiamo, perché è anche inutile criticare un modo di produzione se poi non sia neanche vagamente l'idea di come dovrebbe essere un modo di produzione alternativo. Questo spesso è passato sotto traccia. Collegato al tema della natura umana, hai detto benissimo, c'è il tema del bene. Prima ho cercato un po' di definire che cos'è il bene. Io ho un po' l'abitudine di cercare sempre di definire tutti i concetti che utilizzo e mi sembra che si dovrebbe fare così, perché è un po' il discredito di cui soffre la filosofia, proprio il fatto che spesso non si definiscono i concetti, quindi rimane sempre un parlare così a vuoto. Quindi cerco sempre di farlo. Non so, naturalmente, che nella storia della filosofia questi super, questi grandi concetti hanno avuto tante definizioni, però cerco di chiedere quella che uso, che è poi quella di Aristotele. Il bene, lo accennavo, è appunto, per ogni ente il fine verso cui per natura tende, quindi per l'essere umano, a realizzare le sue due componenti, razionale e morale, per il cavallo, farsi le sue galoppate o fare tutte le cose che fa un cavallo, eccetera, eccetera. Oggi perché anche il bene, ecco ho letto, guarda proprio, se ieri o l'altro ieri, una dichiarazione di un psicanalista molto famoso, evito sempre di fare i nomi perché non ti accionano le polemiche personali, ma è sempre importante in questi casi la cosa che viene detta e non chi la dice, che diceva più una cosa molto condivisa, credo nel senso comune, cioè diceva chiunque si pone come idea quella di realizzare il bene, poi per il proprio dogmatismo, per il proprio credere, che finisce per realizzare il male, la realizzazione della violenza. Quindi il che equivale a dire che non esiste una idea di bene. Allora io mi chiedo questa cosa, non so se questa persona abbia, si è sposato, abbia moglie, abbia figli, o una figlia e quando penso o agisco per il rapporto a quello che deve fare lei, mi pongo sempre l'idea di fare il suo bene, di avere rispetto e cura per la sua natura, per la sua particolare declinazione, per quello che posso fare, per il mondo circostante. Ecco, invece, se uno parte che invece lui, il bene no, perché sennò farà sicuramente del male, allora non so, quando si rapporta ai suoi amici o ai suoi cari, cosa fa, agisce a caso? Oppure al contrario, pensa di fare al loro male, così magari per converso farà il bene. A me sembra, mi sembra una follia, ma è una follia che ha una logica. La logica qual è? Se tu disabitui le persone a ragionare in termini di bene, dici loro, soprattutto che è più giovane, dici loro implicitamente, non pensate al bene, tanto non esiste una natura umana, ma vi dovete adattare, il modo di evoluzione sociale richiede questo, non pensate a quale fine dare la vostra vita, il fine è adattarvi a queste modalità che funzionano, come dicevamo prima, in maniera un po' irrispettosa, diciamo così, nella natura umana. Quindi sì, diciamo, è un modo per bloccare sul nascere qualsiasi forma di critica e di pensiero critico, almeno appunto per quanto riguarda il modo in cui viene regolata e gestita la totalità sociale. Magari, ecco, spesso rispetto a questo tema della natura umana e del bene, oggi spesso si può guardare con sospetto a questi concetti, intanto è interessante che anche sia stata spesso proprio una certa cultura marxista, guardare con sospetto proprio questi concetti, ma è passata un po' l'idea nel senso comune che nel caso in cui esistesse una natura umana ed esistesse una qualche forma di bene assoluto, ci sarebbe il rischio che un qualche potere politico imponesse determinate regole, una determinata appunto visione del mondo, rifacendosi a questi concetti, cioè come se fosse un po' intrinsecamente autoritario il pensare che esista un bene assoluto e che esista appunto una natura umana perché inevitabilmente si creano coloro che magari appunto sono difformi a questa natura e allora devono essere rieducati, Cioè questo argomento della natura umana spesso lo si sente in bocca magari anche ad una certa cultura tra virgolette reazionaria che lo utilizza in questo senso, però non è in verità appunto, per dire soldoni non bisognerebbe buttare il gambino con l'acqua sporca, credo, no? Cioè in verità te ci insegni che ci sono in verità altri utilizzi di questi concetti. Si interatta sempre quando la filosofia, il bello della filosofia è che il metodo principale con cui espone le proprie, con cui si espongono i propri argomenti è quello dialettico, cioè ciascuno pone una tesi, per esempio, la natura umana esiste e pone i suoi argomenti per dimostrarlo con quelle che ho provato così proprio semplici a indicare prima. Oppure esiste il bene, il bene è questa cosa qui, ciò verso cui niente per natura tende. Questo è un concetto come tutti i concetti, è un concetto a virgolette assoluto di bene, nel senso che è valido in universale, cioè vale per tutti gli enti. Poi, dicevo prima, ciascuno lo declina relativamente alle condizioni della propria vita in varie maniere. Si tratta sempre, dire in generale il bene non esiste o la natura umana non esiste, secondo me è proprio un errore, perché non è indifferente se io, non so, mi rapporto a mia figlia dandole una carezza oppure dandole un calcio, come faccio a dire che è indifferente? Dire che bene non esiste vuol dire che posso dare una carezza oppure un calcio, è la stessa cosa, tanto bene non esiste, oppure dire che la natura umana non esiste e sarebbe un po' la stessa cosa. Poi non bisogna fare un altro errore che viene spesso fatto in questi casi, cioè solitamente è vero che solitamente gli enti, i viventi tendono a fare ciò che è loro più congeniale per natura, se noi lasciamo in natura che ne so, un pollo, questo pollo va in giro a razzolare e a cercare il cibo nel campo. Noi per oggi vediamo i polli, non so, nella Lombardia dove abito io, credo di vedere, non ho forse mai visto da anni un pollo che razzola libero in un campo, ma credo che tutti i polli che ci sono siano in grandi capannoni, in grandi batterie dove vengono allevati per essere poi lavorati dalle aziende che fanno questo tipo di attività. Non devo però da questo traga la conclusione che siccome normalmente tutti i polli sono in batteria, allora la natura del pollo è di vivere in batteria. La stessa cosa vale per gli esseri umani, non devo dal fatto che spesso gli esseri umani con cui ci confrontiamo non ricercano la verità dell'intero, le cose essenziali, le tematiche della filosofia oppure non agiscono gli uni con gli altri con rispetto e cura, che questa non sia la loro natura, è lo stesso la loro natura, solo che le modalità sociali in cui sono inseriti li derealizzano. Come faccio a capire che la loro natura è il porre in essere, per esempio, il conoscere con verità o agire bene, quindi agire con rispetto e cura? la prova di questa cosa sta nella felicità di una vita, ma se anche questo tema e la grande infelicità di milioni di persone che si traduce in utilizzo anche di farmaci per riuscire a rendire un po' gli effetti di questa infelicità ne costituisce una prova, ma anche se vogliamo uscire da questo genere di prova, negare che la natura umana sia razionale e che quindi sia necessario all'essere umano conoscere con verità semplicemente anche solo per vivere, non dico per vivere bene felicemente, anche solo per vivere, trova delle obiezioni assurde, non so se io esco dalla mia casa e c'è il semaforo che indica il rosso e io non conosco con verità che il rosso vuol dire fermarsi e il verde vuol dire passare la prima volta può andarmi bene, ma la seconda già sono probabilmente morto e questo per fare un esempio sciocco di conoscenza vera, oppure se per parlare del piano etico se io esco di casa vedo un ragazzone di due metri per 150 kg e penso che sia indifferente, che il bene non esiste e quindi gli do un calcio anziché magari salutarlo e poi patisco le conseguenze di questa mancanza di rispetto etico, di questa mancanza di conoscenza del bene, quindi queste queste conoscenze razionali, queste azioni etiche se applicate consentono non solo di sopravvivere come negli esempi sciocchi che ho fatto ora, ma se applicate a tutte le azioni della quotidianità, se stese all'intero modo di produzione sociale, come ci rapportiamo alla natura, agli altri esseri umani nel mondo, in tutto il pianeta, se le estendo e le generalizzo vedo che il concetto di bene che viene così accusato di dogmatismo se invece applicato e realizzato può portare a dei grandi benefici se invece non conosciuto può portare a tanti disastri. chiaro, sì, 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 no, 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 infatti diciamo che è un modo di, diciamo, è un modo di intendere la natura umana è un modo credo appunto di vedere il bene e il male quello che oggi è dominante che si contraddice poi da solo come dicevi te, nel disagio e nell'infelicità diffusa delle persone e sempre a questo proposito ti volevo chiedere appunto rispetto a questo a questo tema che sottolineavi nel senso che la filosofia non ha solo il compito di descrivere il mondo, no, ma quindi ha anche il compito in verità di valutarlo, di giudicarlo eticamente, moralmente e quindi poi attraverso questo giudizio morale che poi diventa giudizio politico anche contribuire eventualmente a trasformarlo, quindi come come diceva Marx, questa dimensione valutativa che poi diventa inevitabilmente anche poi una 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 dimensione progettuale politica è esattamente la dimensione che manca oggi nella cultura universitaria dominante ora diciamo non 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 conosco però sicuramente in Italia se uno anche solo va a guardare un po' i piani i piani didattici delle facoltà di filosofia ma in generale un po' di di tutte le scienze umane vede che siamo diciamo stiamo raggiungendo dei risultati incredibili nella descrizione nell'analisi specialistica che ovviamente è una cosa assolutamente positiva ma poi è come se un ragazzo entrasse in un sistema che in qualche modo che in qualche modo sollecita solo questa sua dimensione e cerca di bloccare sul nascere invece tutta la dimensione etica morale e politica proprio con l'idea in qualche modo di bloccare sul nascere un pensiero critico che potrebbe essere che potrebbe essere pericoloso cioè io diciamo ho sempre avuto un po' diciamo questa questa impressione non so se non so se anche la tua si si anche la mia hai detto delle cose che condivido quello che viene spesso fatto parlo così della filosofia perché il campo che conosco meglio insomma di cui mi occupo la tendenza in università è per esempio di insomma quella dominante mi sembra che sia quella di far diventare la filosofia esattamente come le scienze e quindi quali sono le differenze principali tra la filosofia e le scienze quindi perché invece serve mantenerla questa distinzione perché la filosofia prima differenza ricerca la verità dell'intero dell'intero della realtà con cui abbiamo a che fare le scienze ricercano cercano di comprendere e di descrivere meglio solo parti di realtà e parti di realtà sempre più piccole ora se io faccio diventare la filosofia che è un sapere dell'intero lo faccio diventare un sapere particolare cioè della parte per cui io studio solo se sono uno storico della filosofia quell'autore o quel bra o quel libro di quell'autore scende sempre più in piccolo o quel singolo periodo o se sono un teoretico quel determinato tema e mi dimentico di tutto ciò che sta intorno quindi non ragiono più in termini di intero in termini di totalità sociale in cui sono immerso in cui l'autore era in merce eccetera eccetera faccio un danno alla filosofia cioè forse produco un sapere più tra virgolette scientifico quindi molto preciso molto settorializzato molto preciso e rigoroso per i metodi delle scienze ma mi allontano da quella comprensione dell'intero che è proprio della filosofia la seconda differenza importante tra la filosofia e le scienze è che mentre appunto le scienze si limitano a descrivere la filosofia non può limitarsi a descrivere ma nel suo comprendere questo intero della realtà inevitabilmente anche lo valuta perché dico inevitabilmente perché la filosofia la fanno soltanto gli esseri umani all'interno della natura l'essere umano ha queste due caratteristiche cioè è razionale dicevamo prima vuole conoscere con verità ma è anche un ente morale cioè vuole anche fare bene vuole vivere bene stare bene e lo può fare soltanto se il contesto sociale complessivo è caratterizzato da uno stare bene generale della natura degli altri esseri umani insieme ai quali lui insieme ai quali l'essere umano vive quindi inevitabilmente c'è questa dimensione che non può essere soltanto descrittiva della filosofia ma occupandosi dell'intero e dato che chi se ne occupa è l'essere umano che ha questa doppia caratteristica deve anche poter non limitarsi a dire beh il modo di produzione capitalistica è fatto così ve lo descrivo preciso preciso con tutti i segmentini chiuso e no se questo modo di produzione produce come effetto che un miliardo di persone non mangia il pianeta si sta sempre più deteriorando in termini di vivibilità eccetera 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 non vado avanti perché sono sotto gli occhi di tutti per quale motivo la filosofia non deve valutare questa cosa negativamente e proprio perché in maniera fondata fondata con questi su questi argomenti lo critica non deve anche pensare a una progettualità alternativa se tu pensi a alcune ve lo sai sono soprattutto l'antichista alcuni dei testi dei capolavori della filosofia classica greca sono la repubblica di Platone e la politica di Aristotele la repubblica di Platone in particolare fa proprio questo cioè esamina la realtà del suo tempo e propone un modello ideale conforme per Platone alla natura umana in cui pensare di poter vivere meglio e Aristotele negli ultimi due libri della politica fa un po' in maniera meno rivoluzionaria ma propone una simile forma di progettualità e questo perché è veramente naturale come facciamo è come se un medico dicesse ah guardi allora le descrivo scientificamente che lei è malato di cancro punto e non ti proponesse una valutazione di cosa è opportuno fare per guarire se operarsi se fare delle terapie differenti eccetera non possiamo non ci si può esimere la filosofia insegna che non ci si può esimere non solo dal comprendere la realtà ma anche dal valutarla e se necessario dal progettare un'alternativa se facciamo diventare la filosofia come un un bricolaggio un'enciclopedia di tante scienze settoriali perdiamo quella sua direzione verso l'intero e verso la valutazione quindi verso il bene che invece è congeniale e strutturale da quando è nata cioè dai tempi dell'antica Grecia chiaro no sì diciamo purtroppo la maggior parte dei la maggior parte dei diciamo dei professori non la purtroppo non la pensa non la pensa come te viviamo anche in un sistema che anzi diciamo seleziona seleziona probabilmente cattedre in base appunto a al non pensarla come te detta 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 estremamente detta estremamente in soldoni e senti facendo riferimento al tuo libro il necessario fondamento umanistico del comunismo ti chiederei che cosa rimprovereresti e se rimprovereresti qualcosa alla grande tradizione filosofica socialista e comunista una cosa forse l'abbiamo già detta che è in particolare legata al concetto al concetto di natura umana però ecco che cosa che cosa che cosa che cosa rimprovereresti alla tradizione filosofica diciamo del passato socialista del passato e quindi anche su quali basi tra virgolette potrebbe rinascere o si potrebbe fondare una nuova filosofia diciamo socialista ma in verità diciamo una filosofia tout court del futuro ah sì allora sempre per il poco che possono variare le mie considerazioni su queste cose qui quello che accennavo prima cioè la tradizione diciamo così marxista socialista comunista chiamiamola come vogliamo è una tradizione molto ampia già solo a partire da Marx è molto ampia e ha avuto diverse correnti al proprio interno quelle magari che hanno posto un po' più di attenzione al tema della natura umana sono state per vari motivi minoritarie il motivo principale che anche queste tradizioni queste correnti critiche diciamo così comunque nascono all'interno del modo di produzione capitalistica quindi un pochino come il mio pensiero come quello di tutti ne viene un po' deformato e un po' plasmato e può darsi che abbia influito questo nel fatto che il tema pur fondamentale della natura umana sia stato quasi sempre accantonato dai maggiori studiosi marxisti che hanno fatto delle cose molto molto utili a partire da Max ma anche prima sulla critica della mobilizzazione capitalistica quindi la critica la past test diciamo così è tuttora è molto vivace ci sono autori insomma che sul piano della critica sono fenomenali e colgono anche cose molto sottili dei nuovi delle nuove tecnologie dei nuovi processi lavorativi eccetera quindi qui il suo frutto maggiore è stato quello ma tanto grande è stato il frutto per la past test e tanto piccolo purtroppo non ce la voglio dire è stato il frutto per quanto riguarda la past cost cioè non vediamo proprio l'attuale modo di produzione le riforme della scuola che si sono succedute danno sempre meno il fatto che siano assenti appunto i concetti di natura urbana bene che sono i fondamenti su cui soltanto si può costruire fa sì che tutta la parte progettuale sia ormai sia davvero quasi azzerata io ho fatto di rigona una rivista si chiama Queen Nepper per la casa editrice Petit Lesans che hai nominato prima e ti ringrazio per le parole che hai detto e sono per la casa editrice assolutamente anche per me meritate perché ha fatto delle cose meravigliose il mio amico Carmine Fiorillo ecco dicevo di rigu questa rivista qualche anno fa abbiamo fatto un numero intitolato sulla progettualità in cui insomma cercavo un po' di far passare il tema per cui non basta solo criticare e aggiungo a volte non serve criticare se non sia un'alternativa ma occorre cercare di proporre un qualcosa cioè critichiamo l'attuale modo di produzione va benissimo abbiamo delle ragioni se però non sappiamo neanche vagamente delineare un'alternativa in termini di strutture della proprietà di strutture produttive di strutture distributive di come deve funzionare almeno in linea generale un modo di produzione per essere comunitario per essere buono per favorire una buona vita delle persone della natura questo è un problema volevo iniziare a sensibilizzare su questo tema ecco il risultato che ho ottenuto è che anche qui evito di fare i nomi perché è sempre brutto ma anche i grandi studiosi che avevo contattato amici alcuni di qua non mi sono morti mi hanno detto ma guarda su questo tema non so scrivere non saprei cosa dire gli studiosi più giovani invece hanno addirittura preso la distanza ma dobbiamo pensare al qui e ora mica al progettare una cosa che poi chissà se verrà o non verrà però anche qui se non abbiamo una direzione un'idea di cosa bisogna costruire risulta poi difficile tutto e a me sembra ecco che per vari motivi non necessariamente per colpa di Mars che ha ripeto molti più meriti che demeriti ma per vari motivi questa mancanza di una considerazione della natura umana alla base del discorso politico progettuale filosofico sia stato il grande limite di questa tradizione è come se di fronte al tema della progettualità sai nelle mappe dei tempi antichi in cui si scriveva che oltre a questa zona ci sono i leoni e quindi non si può andare non la conosciamo e mi sembra che molti anche bravissimi quando si tratta semplicemente di dire o di delineare un qualcosa di progettuale si trovano in questa situazione hanno paura proprio ad entrarci capiscono che lì è un terreno pericoloso preferiscono stare sul loro ambito della critica dove sono fenomenali però purtroppo bisogna tentare di dire qualcosa e di progettare qualcosa se si desidera realmente uscire da una situazione che è un po' disastrosa da diversi punti di vista certo e tra l'altro mi veniva in mente che anche questa anche questa dimensione progettuale che è diciamo potremmo dire anche proprio una facoltà in verità dell'uomo è una è una dimensione che sia a scuola che all'università viene completamente tralasciata cioè come se non fosse minimamente importante cioè è un qualcosa a cui effettivamente non siamo minimamente abituati diciamo ed è già sempre più difficile trovare in qualche modo dei dei maestri e dei saperi che ci inizino al pensiero critico però già in qualche modo come dicevete prima in verità su quel versante c'è c'è roba soprattutto ancora nella traduzione nella tradizione marxista eccetera eccetera lì si trova ancora roba mentre proprio nella dimensione più strettamente progettuale è un qualcosa che è come se non esistesse cioè è come se non fosse minimamente importante è come se qualcosa di cui noi non ci dovremmo minimamente occupare che è particolare no come è veramente un qualcosa di notevole il fatto che una dimensione così fondamentale una cosa così importante non venga nemmeno citata ecco se sul pensiero critico ogni tanto si sente la mentele non c'è pensiero critico ecco sul pensiero progettuale non sente nemmeno le polemiche che non ci sia nel senso si fa finta che non esista e che gli studiosi che siano di filosofia o di scienza umane ma immagino anche probabilmente quelli di economia non vengano minimamente abituati a pensare in questo modo e credo che sia per certi aspetti credendo che sia proprio una facoltà e poi una facoltà che pian piano si come si dice si si assopisce no? e quindi poi ad un certo punto effettivamente siamo diventiamo completamente completamente incapaci di incapaci di incapaci di farlo e ti volevo chiedere sempre su questo sempre su questo tema te scrivi spesso che secondo te il comunismo non nasce con Marx che cosa che cosa intendi ma intendo che allora innanzitutto dobbiamo sempre definire i concetti per comunismo intendo un modo di produzione sociale conforme alla natura razionale e morale degli esseri umani quindi anche rispettoso del cosmo naturale in cui gli esseri umani vivono intendo questa cosa qui questa è una esigenza appunto naturale per gli esseri umani e come tale non può essere nata solo fino ad un certo punto solo a partire da un certo momento quando si è acquisita una consapevolezza anche minima di questa natura le teorizzazioni in merito si sono diffuse io ho fatto uno studio per sulla civiltà minoica in cui probabilmente alcune di queste tendenze parliamo del 2000 a.C. erano già emerse nella nell'antica creta però anche senza andare così lontano lì ci sono prove archeologiche e non testi ma parliamo solo di dove abbiamo i testi quando per esempio le comunità pitagoriche quinto secolo a.C. circa vivono ponendo in comune i beni e c'è un detto di Pitagora che Platone riprende più volte anche Aristotele che dice i beni degli amici devono essere comuni più o meno dice così cosa vuol dire questa cosa vuol dire che quando affinché si crea amicizia affinché si crea comunità occorre che i beni cioè le cose necessarie alla vita le cose necessarie per realizzare il fine appunto dell'essere umano siano comuni comuni cosa si intende si intende che tutto ciò che senza era la vita dal cibo alle medicine all'acqua alla filosofia perché anche la filosofia è essenziale alla vita e alla buona vita tutte queste cose devono essere comuni cioè non devono essere proprietà privata di qualcuno che ne impedisce che priva appunto gli altri di quelle stesse cose perché se succede quello cosa succede succede che c'è il conflitto che chi non ne ha ne ha bisogno per sopravvivere altro che amicizia si crea la massima illimicizia la massima distruzione del tessuto sociale per cui questo non so nelle comunità pitagoriche ma anche nelle prime comunità cristiane gli altri apposti raccontano che vivevano mettendo in comune i loro beni e qui per lo stesso motivo perché quando non quando non ci si scanna ma al contrario ci si armonizza mettendo in comune le cose più essenziali alla vita si vive meglio e vale lo dicevo prima vale anche per la filosofia cioè oggi c'è questa cosa per cui uno ha un'idea e quella diventa lui ci mette il copyright ed è la sua è uguale che se uno dice quella idea senza nominare anche il nome di quello che era detta ovviamente benissimo non è che intendo violare il copyright con le citazioni ma è sempre fatta e fatta precise naturalmente però la mia concezione della filosofia non è come un tesoro che io metto nel mio forziere lo tengo qui nascosto e poi se lo riprendo tra dieci anni lo troverò tale quale no la filosofia è un qualcosa di vivo che frutta diciamo che è come un seme che frutta se viene messo in comune se viene messo in comune frutta perché io lo metto nella terra qualcuno ci mette l'acqua e la naffia qualcun altro poi vede crescere una pianta raccoglie i frutti li distribuisce e questa cosa lo lo rende rende il tessuto sociale comunitario amicale vitale viceversa il tenere per sé le cose non favorisce questa cosa per questo ti dico il comunismo inteso appunto come una una modalità sociale in cui le persone possono vivere in maniera armonica in maniera conforme alla propria natura di essere umani è un'esigenza che c'è da sempre poi le teorizzazioni sono state alterne varie nei vari contesti umani ma questa è un'esigenza che c'è da sempre ecco la cosa che mi sta più a cuore è che si ponga la base del tra virgolette comunismo una parola che avendo una storia lunga è stata intesa in vari modi ma ho cercato proprio di definirla ora ecco sarebbe per me importante che nel comunismo tra virgolette sempre non vi gesso uno spirito di parte di fazione per cui il comunismo fosse semplicemente la rivendicazione di una parte per quanto oppressa su tutte le altre ero stato tantissimi anni fa in Toscana e c'era una persona che poi è diventato un mio amico so che non sta bene di salute quindi mi spiace molto di questa cosa che disse io stavo parlando non mi ricordo di che cosa vorrei forse presentare un libro e lui mi fece un complimento io non lo conoscevo allora questa persona mi fece un complimento meraviglioso che io penso non valga per me ma valga in generale ed è una sua idea e gli do merito di questa bella idea vi disse così come Spartaco ha cercato di liberare gli schiavi contro il potere romano così come Munther ha cercato di liberare gli agricoltori eccetera eccetera così come Mars ha fatto la stessa cosa con gli operai Luca ci indica che non nelle parti per quanto penso occorre trovare la chiave per dare una progettualità migliore ma nella natura umana quindi in tutti anche nell'oppressore come abbiamo detto occorre vedere una natura umana che il modo di evoluzione in cui vive ha derealizzato in qualche modo non un nemico ma semplicemente un essere umano come noi da cercare di convincere nei limiti del possibile naturalmente chiaro chiarissimo e volevo anche leggere una una tua citazione che ho trovato molto bella a questo proposito in cui dice appunto si può anche non essere comunisti e desiderare che la proprietà dei mezzi della produzione sociale dei beni essenziali alla vita cibo, acqua, medicina eccetera continui ad essere privata e che quei beni dunque negati a centinaia di milioni di persone che non possiedono denaro sufficiente per acquistarli si può accettare che si accumulino enormi ricchezze per pochi e grandi povertà per molti che la natura e l'umanità siano sempre più sfruttate mercificate e svilite e così via in questo caso sicuramente non si è comunisti ma forse non si è nemmeno umanisti e forse nemmeno cristiani quindi è un po' quello per rafforzare quello che stavi però lo penso penso che sia così e fa nella direzione che dicevo prima cioè a volte anche il marxismo ha un po' di preclusione verso l'umanesimo quindi verso questo concetto di natura umana universale o anche verso il cristianesimo e secondo me è una preclusione per molti contenuti assolutamente sbagliata perché oltre al fatto che siamo tutti esseri umani sono tutti qui sulla stessa barca sia l'umanesimo che bisognerebbe specificare meglio l'umanesimo ho scritto diversi testi sull'umanesimo ma non posso ovviamente stare a fare molto specifico ma anche il cristianesimo hanno dei contenuti che vanno in una direzione comunitaria in maniera assolutamente chiara e diciamo così il pensiero critico di oggi non può permettersi di buttare a mano o di non leggere o di non considerare non solo la filosofia greca antica Platone e Aristotele ma anche i grandi del cristianesimo i grandi dell'umanesimo e si vende a dire anche le tradizioni orientali quelle antiche sono quelle che un pochino conosco che hanno anche qui dei contenuti che vanno in quella stessa direzione quindi io vorrei fare un recupero di questa cosa quando vedo dei pensatori critici molto alla moda che non a caso tra l'altro sono sempre intervistati anche sui quotidiani più più venduti e quindi mi chiedo se questi critici coni criticissimi che sono sempre intervistati sui quotidiani più più venduti sarà così forte la loro critica mentre non vedo mai sui media più più gettonati quei pensatori che magari propongono di iniziare a parlare di progettualità per cui molto probabilmente una progettualità universalistica oggi è molto più necessaria che non una critica apparentemente gridata e ribelle ma che conclude poco certo prima di farti l'ultima domanda legata anche un po' noi siamo un canale che si occupa molto anche di geopolitica di critica economica e quindi stiamo stiamo dicendo osservando attentamente anche diciamo tutti gli sviluppi e fenomeni che avvengono a livello di politica internazionale però prima di soffermarmi su questo volevo chiederti un po' per appunto concludere un po' tutte queste questi questi discorsi che stavamo facendo il tuo ultimo il tuo ultimo libro si chiama metafisica umanistica no? e quindi ecco voleva ti volevo chiedere appunto se sostanzialmente ecco questo tuo questa sua definizione di metafisica umanistica è legata proprio a questo a tutto quanto stavamo dicendo sì 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 non è l'ultimo perché è l'ultimo è sentite il concetto di filosofia sì sì si collega assolutamente cos'è la metafisica umanistica un po' prima dicevano la filosofia ricerca ha come contenuto la verità dell'intero l'intero si compone di parti queste tre parti almeno secondo me comunque secondo il pensiero classico cui faccio un po' riferimento sono l'essere umano l'umano la natura e il divino la metafisica umanistica è un modo di rappresentare l'intero di descriverlo nella sua struttura sistematica perché queste parti sono fra loro collegate ora la metafisica anche lei è una tradizione millenaria la metafisica classica diciamo che ha dato un posto di primo piano al divino o come creatore per esempio la tradizione cristiana o comunque come diciamo così motore o causa efficiente del mondo naturale la metafisica umanistica invece si differenzia direi per due ragioni la prima ragione è che ritiene il cosmo naturale autosussistente diciamo così non bisognoso per spiegarsi di un divino trascendente che intervenga come creatore o come causa efficiente è un'affermazione molto forte infatti nel testo la modero molto nel senso che posso dire di conoscere che questo cosmo infinito lo conosco tutto preciso preciso ve lo so spiegare tutto per segno e quindi sono sicuro che non esiste uno trascendente assolutamente no quindi va dialetticamente che è il metodo della filosofia sempre lasciata la porta aperta a un fatto che se non riusciamo a spiegarci un qualcosa forse forse una porta aperta anche sul divino occorre occorre lasciarla detto questo quindi c'è una differenza tra la metafisica umanistica e la metafisica classica un ruolo diciamo minore o residuale diciamo così del divino e poi soprattutto l'accento sul fatto che il mondo probabilmente è eterno esiste da sempre la sua materia esistono da sempre le sue forze le sue leggi che hanno prodotto lo svolgimento naturale cosmico che conosciamo però l'essere umano è l'unico tra gli enti che conosciamo perlomeno che abbiamo sperimentato che possono descrivere la verità di questo intero cioè che possono descrivere i contenuti essenziali le trame di fondo le strutture sistematiche di questo intero in questo senso l'essere umano è il fondamento nella tesi centrale del libro è il fondamento della verità dell'essere non perché non esista un essere una realtà anche senza l'essere umano naturalmente esiste ma la verità dell'essere torno alla definizione la verità è quel pensiero che descrive in maniera conforme la realtà la verità dell'essere può essere in quanto pensiero può essere pensata e delineata solo dall'essere umano quindi è una metafisica umanistica da questo punto di vista perché l'essere umano ha questo ruolo fondamentale nel delineare la verità dell'essere e perché la natura nella sua autosussistenza molto probabile è un po' così la base su cui poi l'essere umano può fare i suoi tentativi di comprensione filosofica questo proprio per dire delle cose complicate in pochissimo tempo e sicuramente in maniera un po' confusa e mi scuso no 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 chiarissimo 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 e senti per concludere ti farei una domanda legata più all'attualità e come ti dicevo prima noi qui a Torina stiamo interpretando gli attuali fatti geopolitici nel segno di un progressivo declino e decadenza dell'ordine unipolare americano e con il progressivo emergere almeno questa è la speranza di un nuovo ordine multipolare più democratico per quanto riguarda poi anche le relazioni internazionali tra gli stati e che ponga fine diciamo una volta per tutte ad un certo imperialismo occidentale e in particolare americano sul mondo che tra l'altro è una forma di imperialismo che negli ultimi decenni non ci conviene nemmeno più diciamo a noi europei ecco se fino a qualche tempo fa potevamo stare a discutere che comunque bene o male questo dominio americano sul mondo coincideva anche con i nostri interessi nazionali adesso diciamo diventa sempre più palese che alla lunga essere province di un impero non può sicuramente non può sicuramente portare portare nulla di buono e poi guardiamo con particolare interesse alla Cina come non solo come possibile diciamo competitor geopolitico ma anche perché ha un modello di sviluppo sociale un modello di produzione sociale molto diverso dal capitalismo neoliberista americano e ora purtroppo sempre più europeo ecco ti chiederei se anche questa è la tua lettura e se il modello di sviluppo cinese secondo te può essere un'alternativa in qualche modo convincente anche per l'Europa guarda i capelli bianchi mi hanno insegnato un po' che sulle materie su cui non sono competente preferisco un po' astenermi dovrei rispondere a naso a intuito o con pochi dati ecco sono poco fiducioso diciamo così sulle realtà geopolitiche differenti che a volte non mi sembrano così radicalmente differenti nel senso che mi piacerebbe che avessero se vedessi in queste altre realtà di idee come progettuali come quelle che ti ho detto prima farei sicuramente il tifo non vedendo queste cose preferisco non prendere posizione perché sosterrei delle cose molto banali appunto da incompetenti e non darei nessuna utilità penso se anche oggi si tu ovviamente ti esprimi con più competenza sono io che sono incompetente su queste cose però oggi può essere anche una risposta che sembra una non risposta che ho dato ora ma per soprattutto chi è più giovane che è noto prende posizione a volte con molta facilità ecco può forse essere un piccolissimo insegnamento anche con il fatto di saper dire su questa cosa preferisco non prendere posizione perché non sono abbastanza competente per prendere e oggi si esprime un po' su tutto sui social e quindi magari questa non risposta può avere qualche utilità certo no no però ecco sì in realtà collegandoci anche a quanto dicevi all'inizio effettivamente è difficile trovare anche a livello culturale filosofico oggi un luogo nel mondo che faccia un po' riferimento a quei concetti no? di natura umana e di bene e di male a cui facevi riferimento a te ecco quindi diciamo quello anche anche per questo in realtà la tua risposta è assolutamente sensata va bene Luca grazie mille grazie mille per questa grazie mille per questa per questa conversazione e io ringrazio anche tutti coloro che ci hanno ascoltato e ci rivedremo presto la prossima puntata grazie e buona serata grazie grazie Alessandro grazie a tutti